Siamo con Christian Kwan. Che tipo di partita è stata? È stata una partita molto difficile perché lui sapeva l'importanza di quella partita. Abbiamo sofferto tanto e abbiamo fatto anche delle ripartenze importanti. Abbiamo portato casa a tre punti, era la cosa importante. Grazie. Cosa pensi della tua prestazione? Io non guardo la prestazione. Penso partita dopo partita. Non lo so come ho giocato. È venuto il gol sul corso dei Muscati. Quello che mi ha chiesto il mister l'ho fatto. E poi non lo so cosa dire. A chi dedichi questa rete? A mamma, a mio zio e anche alla ragazza. Sì, come lei ha detto, sono una partita molto importante. Possiamo dire che sono il big match della Serie B. Speriamo che dobbiamo fare una prestazione per portare in casa i putti. È la cosa fondamentale. Quindi adesso riposiamo bene. Poi attaccheremo da sabato.